Ben trovati con l'oroscopo di Barba Nera, l'almanacco italiano dal 1762, martedì 22 settembre. Ariete, l'umore non sarà al top, ma non prendetevela con chi vi sta vicino, riversando fra le mura domestiche le tensioni che vengono dall'esterno. Se le cose non girano come vorreste, fermatevi un po', fate il punto della situazione e riflettete sul da farsi. Toro, mentre la luna puntella con la sua razionalità, Nettuno smussa gli spigoli e favorisce i sentimenti, le amicizie e l'espressione artistica. Guadagni insperati, manifestazioni di amicizia o di amore, decisioni che migliorano la qualità della vita. Gemelli, se avete progetti da realizzare, è il momento di farsi avanti. Complice Mercurio in bilancia, le chance fortunate non mancheranno. Create le condizioni per passare rapidamente a una fase esecutiva, mostrandovi seri, responsabili e razionali. Cancro, Nettuno addolcisce i modi rudi della luna in capricorno. La sensibilità di cui darete prova impenerisce anche il partner più indomabile. Difficoltà di comunicazione con l'amato bene? Perché non dire apertamente che avete voglia di coccole? Leone, volenti o nolenti potreste trovarvi coinvolti in una diatriba o potrebbero arrivarvi all'orecchio certi pettegolezzi su un amico. Non giudicati affrettatamente. Giocate a carte scoperte e procedete con onestà e sincerità per disorientare eventuali avversari. Vergine, la luna in capricorno è un tocca sana in fatto di stabilità emotiva. Coltivando con pazienza le vostre ambizioni, le trasformate in realtà. Svolgete ciò che vi compete nel modo migliore, senza lasciare niente al caso né all'improvvisazione. Bilancia, fra i molti pianeti che tifano spudoratamente per voi, la luna in capricorno è una nota stonata, un freno, un richiamo al dovere. Che barba! Il super lavoro, l'ansia o la luna di traverso? Fatto sta che rispondete picche a ogni tentativo di avvicinamento. Scorpione, iniziate la giornata in attivo con tutti i progetti già ben organizzati e il lavoro eseguito a perfezione. Avete tempo per uscire a divertirvi? Cogliete un invito inatteso degli amici e concedetevi uno strappo alle regole, un divertente fuori programma. Sagittario, decisi a far prevalere le vostre idee, procederete con determinazione e poco propensi ad ascoltare il parere degli altri. Tensioni con i superiori. Per portare avanti un progetto ambizioso occorrerà concentrazione, ma non contate solo sulle vostre forze. Capricorno, la luna gioca in casa affiancata da Nettuno, che allenta il ferrio autocontrollo. Soddisfazioni, capacità di esprimere sentimenti ed emozioni. Il fattore di crisi è rappresentato dalle relazioni, le quali reclamano un sour fair che non vi appartiene. Acquario, merculio amico nel vostro cielo, esige che non perdiate tempo. A giorni non sarete così agili mentalmente e l'ingegno sarà meno brillante. In coppia è di casa la serenità, gli affetti sono al sicuro per quanto fantasticiate incursioni fuori dal seminato. Pesci, sebbene Giove continui a osteggiarvi seminando incertezze nella sfera sentimentale, con l'appoggio della luna in Capricorno non vi date per vinti. Allontanata la malinconia riceverete dagli amici l'affetto e la comprensione di cui avete bisogno.